Siamo nella Fondazione Emanuele Scifo e in questo momento dove è riscoppiata la pandemia un atto di generosità da parte dell'imprenditore Francesco Guarini che ha regalato alla Fondazione degli igienizzanti e delle mascherine. Allora il perché di questo atto generoso e mi sembra anche che non è la prima volta che stai vicino alla Fondazione. Noi già dall'anno scorso abbiamo iniziato tra virgolette diciamo ad aiutare il dottor Scifo nella sua crociata diciamo e manteniamo la parola ancora oggi la parola data per noi della Guarini Corporation ma per me personalmente è sacra quindi un omaggio a questa sia Scifo per tutto ciò che fa per questi bambini e purtroppo questa pandemia che ci sta distruggendo a tutti. Emanuele Scifo allora un atto di generosità per un servizio sociale che svolgete da tanto tempo in una maniera incomiabile. Sì un'ulteriore testimonianza di quanto Francesco Guarini ha deciso di stare a fianco al nostro progetto al nostro progetto di aiutare i disabili e minori di questo territorio. Lo ringraziamo lo ringrazio a nome di tutti i bambini perché sappiamo quanto questi dispositivi sono fondamentali ed essenziali proprio durante questo triste periodo del della pandemia. Quindi di nuovo grazie e continueremo insieme questa battaglia.